La vittima è della famiglia reale Mzomi. Può saltare tutto. Reika è la migliore. Deve chiudere il cerchio. È un fantasma, Reika. Non farti tormentare. Dottoressa Gama, polizia di Quadungueza. Vi voglio ufficialmente informare che l'autore degli omicidi nei campi è un serial killer. Amore mio, mi manchi. Quest'uomo è un cacciatore. Uccide perché non ha altra scelta. È parte di lui ormai. Vuoi prenderti delle cose? Cose che hai dimenticato. Cose che so che tu vuoi sentire.